Partita equilibrata, poche le emozioni tra Fortis e Arezzo, Vaggio e Piandisco. Finisce 1-1. La Fortis, passata in vantaggio con Pecorari, non ha avuto la cinica lucidità e determinazione per il raddoppio. La gara si sblocca nella ripresa. All'ottavo minuto, Pecorari, dopo l'assist di Cannata, mette alle spalle di Pierini con un possente tiro di collopiede da posizione decentrata, 1-0. Il vantaggio però non dura molto. Il Vaggio Piandisco trova il pareggio sugli sviluppi di una punizione dai 30 metri battuta da Fusini, cross pennellato per la testa di Cuccoli e gol dell'1-1. Una partita sfortunata. Sul gol dobbiamo fare meglio perché non c'è sole che tenga, dobbiamo fare meglio la marcatura lì. Quindi è un errore che per l'ennesima volta sul calcio piazzato ci vede penalizzati e quindi dobbiamo migliorare le altre marcature. Per la partita prendiamoci questo punto, smuoviamo la classifica. Stiamo raccogliendo molto poco, molto meno di quello che dovremmo raccogliere perché comunque la guarda ancora non nel totale di 90 minuti, però gioca nei momenti migliori e poi ci puniscono. Quindi speriamo che cambi questo trend. Francesco Martoglio, presidente della Forti Sarezzo, ancora una delusione, diciamo così, a come è andata la partita e sta stretto il pareggio. Da cosa è di peso? La cosa è di peso? Questo purtroppo se si sapesse si poteva risolvere prima. Di peso che è una partita un po' moscia dove abbiamo cercato di imporre il gioco ma ci siamo riusciti solo a tratti. Purtroppo abbiamo sbagliato un gol all'inizio, al primo tempo, con Pecorari che poteva andare in rete e invece ha calciato fuori. Poi siamo riusciti comunque sia ad andare in vantaggio con lo stesso Pecorari, però ci si fa sempre raggiungere. Insomma non sono contento, il discorso è questo qui. Purtroppo non sono soddisfatto della prestazione. Domenica scorsa che ha preso visto una grande squadra purtroppo sciupata da episodi all'ultimo arbitrali che sono successi.